che è successo la mattina non ci riesco sono stitico stitico anch'io ero stitico ho risolto la mattina basta che mangi un paio di frutti e stai a posto tipo kiwi e cacchi e cacchi e lo basso ne kiwi e se è basso ne kiwi che ci stiamo grazie grazie grazie